Non sai come... Perché uscirai? Perché è un... James, non riesco a trovare un disco ed è una notte speciale per Michael. Hai proprio ragione. Lo hai davvero? Persone vestite da animali giganti, come Icee Orso Polare e Clara, la galina spensierata. E per rendere il tutto ancora più frizzante, abbiamo un pepato concorso di bellezza. E Chiocchi sarà DJ, ovviamente. Tu devi diventare un DJ superstar. Ci sono tre semplici regole che tu devi ricordare. Numero uno, devi sempre fare riferimento alla compilation dello studio 54, pezzi rimixati, che durano per ore intere. E numero due, ma donna funziona sempre. E numero tre, quando non funziona niente, metti Tecno. Sono pezzi non definibili, per niente riconoscibili, e tutti penseranno che tu sei così nuovo da morire. Oh, io adoro questo disco. Fa così... Disco 2000.